Estate e cultura a Castione della Prisola, una promossa dall'amministrazione comunale, ha aperto il suo ciclo di incontri a tu per tu con l'autore, con Fausto Manara, psichiatra e psicoterapeuta, e con il libro Un Angolo, tutto per me, dedicato al tema della solitudine e al modo migliore per superare le sensazioni negative che questo sentimento spesso determina. Sentiamo l'intervista di Nicola Andreoletti. Fausto Manara, imparare a vivere bene significa imparare a stare soli? Imparare a vivere bene significa organizzare una qualità della vita che sia adeguata alle nostre aspettative vere, non a quello che il mondo, la società, i modelli, i codici di oggi in particolare ci indicano. E tra questo c'è anche l'indicazione, direi, la buona indicazione di poter vivere anche in momenti di solitudine con piacevolezza. Questo fa parte della qualità della vita, tanto quanto vivere con piacevolezza, stare con gli altri. Perché sono due elementi che si rincorrono, insomma, si impara a vivere bene con gli altri, si riesce a vivere bene soli e si impara a vivere soli se si sta bene con gli altri. Quindi penso che l'organizzazione debba tendere ad avere una vita finalmente qualitativa, dove la qualità non sia fatta di cose materiali, ma che sia fatta anche della possibilità di seguire quelli che sono i nostri desideri. Lei oggi ha diverse volte messo l'accento sulla necessità che abbiamo di disintossicarci. Che cosa significa? Beh, l'intossicarci significa non sentirci troppo vincolati a quello che sembra ci sia chiesto tutti i giorni da parte del mondo in cui viviamo. L'intossicarci significa il poter dedicare più attenzione a quelle che sono le nostre qualità e non vivere preoccupati dei nostri difetti. Perché? Perché le richieste che ci vengono da fuori sembra che vogliano tutti senza macchie e senza paura, più senza paura che senza macchie, perché le macchie si possono anche tenere, l'importante è far vedere di non aver paura. Invece le nostre debolezze valgono tanto quanto le nostre qualità, le nostre qualità tanto quanto le nostre debolezze. Si appartengono, costituiscono, come dire, il tutto di un insieme che ci vede come esseri unici, ripetibili, e varrebbe la pena cominciassimo a tenere conto di questa grande qualità che ognuno di noi possiede. Lei si occupa anche di disturbi alimentari, anoressia e bulimia sono il sintomo che alcune persone manifestano perché non riescono a stare bene soli con se stesse. La radice direi comune di questi disturbi è la mancanza di autostima, che poi è la radice comune di ogni tipo di disagio. Quanto più la nostra autostima è debole, quanto più non riusciamo a considerare chi siamo con pianezza, tanto più andiamo incontro a dei disagi. D'altra parte, quando l'autostima è debole, occorre che certi sintomi da intossicazione, anche molto grave come l'anoressia e la bulimia, diventino il modo di esprimere il disagio e la sofferenza. L'anoressia è il tentativo di omologarsi col fisico, col corpo, poi col peso e poi anche dal punto di vista emotivo-psicologico a quello che la nostra cultura richiede oggi alle donne. Le donne per essere belle devono essere magre e quindi quando una ragazza non si sente proponibile per quello che è, e cerca nella magrezza il modo di proporsi al mondo in termini adeguati. Però è anche vero che in questo c'è il tentativo di segnalare, in particolare ai genitori, la propria sofferenza. Insomma, i figli parlano con i sintomi quando non riescono a parlare con le parole e quando temono o hanno la certezza che le loro parole non saranno ascoltate.